Se ti dicessi a 10 minuti da Faenza, 100 metri di giardino, due posti auto scoperti, due camere da letto, due bagni, il tutto a meno di 150.000 euro? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti porto a visitare questa villetta a Faenza. Al piano terra troviamo l'ingresso sul soggiorno con angolo cottura e il bagno finestrato con la vasca. Al piano primo abbiamo il secondo bagno sempre finestrato ma con la doccia, le due camere ed è stato ricavato dal disimpegno un comodo ripostiglio soppalcato. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita virtuale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!